Questa dolcissima cucciola è diva, non so se la ricordate nel video dove era anche con Chester e Puff. Lei, abbiamo visto bene, non è piccola come Chester e Puff che hanno tre mesi, lei ne ha cinque. Guardate i denti, ormai anche il nuovo canino sta spuntando, deve ancora cadere questo da latte. Che significa? Che siccome è rimasta bassina e già ha cambiato i denti, le resta poco da crescere. Una bella taglia media contenuta questa piccola. È bellissima, dolcissima e l'hanno abbandonata piena di rogna in una contrada di campagna dove usano abbandonare i cani e di fronte a una proprietà che ha altri cani. Purtroppo i proprietari della casa non ci hanno pensato minimamente di prenderla, portarla dentro in salvo e l'hanno lasciata nella cunetta di fronte casa. Lei era nascosta sotto un'auto, quando siamo arrivate noi non sapevamo di lei, siamo andate lì per un'altra questione e ci hanno indicato questa nuova cucciola apparsa da poco. Lei era nascosta sotto l'auto, non si faceva prendere, ma era dolcissima già, infatti è stato sufficiente infilare la mano sotto l'auto e farla venire in avanti. Era un mucchio d'ossa senza pelo, tremava e la cosa brutta è che non sapevamo veramente dove metterla quella sera. La famiglia della casa di fronte alla quale era stata abbandonata, come ho detto prima, non voleva tirarla dentro nemmeno per poco, così non abbiamo avuto altra scelta che spostarla in una postazione dove c'erano altri cuccioli, appunto Chester e Puff, che erano lì e non si facevano prendere in attesa di poterli sistemare in uno stallo. Purtroppo a Ginosa è molto confusionaria la questione del salvataggio dei cani abbandonati e dei cuccioli. A volte c'è chi li prende, a volte non li prendono e quindi la nostra associazione è intervenuta per sopperire ad alcune mancanze, però non avendo una struttura purtroppo dobbiamo inventarci dei posti dove metterli in attesa di adozione. Una cosa è certa, quando li prendiamo dopo li facciamo riprendere splendidamente. Puff, vi farò vedere nel video la foto di com'era quando l'abbiamo trovata, è diventato una meraviglia, ha un colore bellissimo, tigrata, dolce, bella e non cresce tanto. Naturalmente mi chiederete quanti chili diventa, vedendola così dovrebbe diventare sui 15-18, ma è la statura che sarà contenuta. I chili non sono un elemento secondo me valido per giudicare, a meno che voi non pensiate di portare in braccio i cani, allora certamente se pesano tanti chili è difficile. Uno può pensare questa cosa per quando diventano anziani che hanno bisogno di essere portati di peso di sotto a sporcare perché non possono più fare affidamento sulle loro zampe, ma quando sono giovani non è che li dovete portare in braccio, per cui considerate soltanto il fatto che appunto lei sarà una statura contenuta. Ecco, non facciamo una questione di chili. Qui si avvicina un'altra cuccia, la guardate, lei ha 3 mesi ed è più grossa di diva. Diva 5 mesi e possiamo quindi dire che rimane media contenuta. Ecco qual è il nostro metro di valutazione, solo questo. Per il resto non conosciamo i genitori e nemmeno quello che ha nel DNA, essendo una meticcia. E niente, vi siete resi conto di quanto è calma e dolce? Fate un pensierino per lei, ha un vaccino, farà il prossimo domani e avrà finito con il piano vaccinale del primo anno, vaccinata, sverminata e poi verrà anche microcippata prima di partire. Speriamo bene Diva, speriamo che chiamino per te. Ciao piccolina. Diva, speriamo che chiamino per te. Ciao piccolina.